Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A12 in direzione Rosignano, un chilometro di coda per lavori tra Sarzana e Carrara. Sulla Fibili per intervento di ripristino, frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. I treni per accertamento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona. La circolazione dei treni è sospesa tra Torre del Lago e Pisa-San Rossore. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!